Continuate a strappare ragazzi! Questa è una battaglia, una guerra! E le vittime sarebbero i vostri cuori e le vostre anime. Armate di accademici avanzano misurando la poesia. No, non lo permetteremo. Basta con J. Evan Richards! E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Quello sguardo negli occhi di Pete dice che la letteratura dell'Ottocento non c'entra con le facoltà di economia e di medicina, vero? Può darsi. E lei Hopkins è d'accordo con lui e pensa Oh sì, dobbiamo semplicemente studiare il professor Richards, imparare rima e metrica e preoccuparci di coltivare altre ambizioni. Ho un segreto da confessarvi. Avvicinatevi. Avvicinatevi. Noi non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana. E la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman O me o vita Domande come queste mi perseguitano Infiniti cortei di infedeli Città gremite distolti Che vedi nuovo in tutto questo O me o vita Risposta Che tu sei qui Che la vita esiste E l'identità Che il potente spettacolo continuo E che tu Puoi contribuire con un verso Che il potente spettacolo continuo E che tu Puoi contribuire con un verso Quale sarà il tuo verso?